L'idea non è importante, l'importante è l'esecuzione dell'idea, quindi tu puoi avere anche un'idea mediocre come quella di McDonald's ma con una grande esecuzione, perché il prodotto è un hamburger con le patatine, quindi non è una grandissima idea, però l'esecuzione è eccellente, quindi molto spesso noi italiani siamo focalizzati sul prodotto e non sull'esecuzione del prodotto e non sulla sistematizzazione del prodotto e quello purtroppo è un problema. Quindi noi abbiamo la cultura della qualità e non la cultura dell'imprenditorialità e quindi sono due cose distinte, perché se io sono bravo a fare il gelato, secondo me l'obiettivo dell'imprenditore dovrebbe essere quello di dare il tuo gelato a più gente possibile, invece se io sono bravo a fare il gelato, sto lì, faccio il gelato, prendo le fragole più buone e questa cosa poi non mi permette di poter scalare il mio business. Quindi è l'esecuzione e il ritmo la parte più importante secondo me di qualunque tipo di business.